buongiorno a tutti dico tutti perché so che ci sono tanti maschi che mi seguono e quindi insomma saluto anche voi in questo modo allora settimana scorsa sì settimana scorsa sono stata a fare un giretto al mondo creativo il mondo creativo è una fiera che si svolge un paio di volte all'anno qui a bologna quindi c'è sia la versione la versione l'edizione primaverile e l'edizione invece quella invernale ed è una fiera appunto del fai da te del craft di tutto quello che appunto è creatività diciamo quindi sia riguardante la carta il cucito i bijoux la cucina insomma una fiera appunto del dedicato alla creatività e quindi agli hobby ecco e quest'anno tra l'altro hanno aggiunto anche tutta un'area nuova dedicata al matrimonio e agli eventi creativi no quindi a tutto quello che è sia do it yourself che appunto allestimenti particolari e so come vanno un po adesso no sapete che vengono appunto dall'america e niente insomma era molto carino e penso che nella versione invernale l'intento sia quello di ingrandire ancora di più questo spazio con più espositori e quindi anche con anche più attività insomma se riescono penso che venga una cosa veramente molto carina vi faccio vedere un po le cose che ho acquistato in fiera allora faccio vedere un po che cosa ho preso quest'anno non ho acquistato nessun libro una rivista ma nessun libro perché non sono riuscita a trovare cioè in realtà l'ho trovato però soltanto alla fine quando avevo già comprato queste cose lo stand dal quale avevo acquistato mi sembra due anni prima tutta una serie di libri troppo carini però appunto ce l'ho trovato soltanto all'ultimo quando ormai avevo già comprato queste cose e poi vi dico la verità non c'era niente che insomma mi attirasse particolarmente allora che cosa vi faccio vedere con il titolo la prima cosa che ho comprato e che insomma è vabbè vi faccio vedere questo praticamente c'era questo stand io ero in giro con l'amichi c'era questo stand che appunto si chiama cioccolato italiano si chiama cioccolato italiano l'azienda? si cioccolato italiano si appunto c'era questo stand che vendeva e faceva anche assaggiare questa cioccolata buonissima è una cioccolata senza glutine quindi può assolutamente mangiarla in tranquillità Gianmarco senza grassi aggiunti, senza zucchero, senza latte ah no questa era aspettata, no questa era cacao senza zucchero comunque in generale sono senza glutine e senza grassi aggiunti e appunto sono queste cioccolate fatte artigianali veramente wow allora queste sono state fatte aspettate da dove è che dice? da dove viene? OMG free senza grassi aggiunti il pistacchio di sicilia per questo è al pistacchio senza glutine a Torino a Torino ok a Torino prodotto e confezionato per cioccolato italiano di Torino quindi insomma venendo all'udunque c'erano tutti questi sapori, questi gusti quindi al pistacchio, alle nocciole alle nocciole IGP con il cacao magro alle mandorle oppure la crema vegana di cacao senza zucchero senza zucchero senza latte e la crema cacao senza latte sempre cacao magro senza latte insomma quindi cioè vabbè fantastici vi lascio qua sotto il link perché so che che vendono online, ho capito perché ho detto ma quando le finisco e vanno in crisi come faccio? vabbè mi sto un po' perdendo ho preso la nocciola e il pistacchio adesso finalmente posso mangiarle quindi non vedo l'ora poi vabbè a proposito di cosa da mangiare c'era anche questo stand questa sì era uno stand di Kevin and Victory's Bakery di Cesena dove ovviamente mi sono preso due fantastici cupcakes buonissimi avete visto la foto su Instagram perché ho postato la foto perché erano troppo carini quindi prima di mangiare ve li ho fatto vedere la foto poi che cosa ho preso? è un altro tanto santissimo quindi sarà un video molto veloce ho preso due o tre cosine di cartoleria in questo stand che era della Maison Madeleine che è appunto un negozio che c'è qui in San Pellice a Bologna ma dove praticamente non passo mai perché non arrivo laggiù insomma a piedi ho preso queste due confezioni che contengono dei sacchettini 10 treat bags e poi sono fatti tutti così colorati con appunto queste fantasie geometriche ma va e poi adesso ve li faccio vedere che questi sono mentalmente io li utilizzo sia per mettere dentro dei regalini oppure quando faccio dei biscottini qualche cosa insomma che voglio mettere qui e regalarla li utilizzo con questo scopo vedete sono semplicissimi sacchettini di carta però così colorata e poi hanno anche i loro chiudipacco quindi molto carini li ho presi appunto così e li ho presi appunto con i qua dorati che sono veramente troppo carini così bianchi con il qua dorato molto carino quindi questo poi in un altro stand c'è questo ok che si chiama mootiscakes.it tutto per le tue dolci creazioni e anche mootisparty mootisparty.com tutto per la tua festa ecco io ho preso degli stickers troppo carini i stickers troppi carini questi che hanno i cuoricini e la scritta love che li trovo adorabili e li utilizzerò sicuramente sia per i pacchetti sia per i bigliettini ma anche appunto nella mia agenda e questi invece che utilizzerò invece prettamente per i pacchettini che sono sempre fatti in cartoncino adesso forse da lì non vedete comunque è ritagliata una specie di bandierina con scritto thank you molto molto carini tra l'altro questo font che ricorda molto il font che utilizzo sempre appunto per per il mio canale e quindi questi li ho preso poco poi sono passate infine in quest'ultimo ah no c'erano anche questi sì che penso di averli presi sempre in questo stand questo ultimo sono sempre dei sacchettini con anche i suoi più di pacchetto questi sono questo rosa pesca con i cuo bianchi che ho utilizzato me ne sono rimasti ma ho utilizzato il giorno del battesimo delle bimbe perché appunto nel tavolo dove c'erano i confetti ho messo appunto anche i sacchettini che pian piano appunto riempivo chiudevo e dava gli ospiti cioè in realtà io non ho fatto l'ho fatto la zia di mio marito per me insomma mi ha aiutato a fare questa cosa poi sono passata nello stand del il castello di zucchero allora qui innanzitutto ho subito addoppiato questa rivista flow che è appunto una rivista come dice lei stessa per a magazine for paper lovers quindi per tutti gli amanti della carta e della paper craft questa appunto è la rivista che sicuramente conoscerete io normalmente l'acquisto online trovandola appunto si acquista online trovandola lì ho acquistato appunto l'ultimo numero questa rivista ha praticamente sempre all'interno dentro tutta una serie di materiali per realizzare appunto una serie di cose con la carta ma però in realtà ha servizi interessanti anche su tante altre cose cioè qua ad esempio si parla anche di cibo oppure insomma sono anche appunto piccoli inserti che riguardano lo spettacolo comunque il design e per esempio anche in questo numero c'è land lettering practice book ovviamente è un giornale tutto in inglese e quindi questo è un how to tips and tricks praticamente di calligrafia ecco quindi ci sono tutta una serie di esercizi da fare che appunto riguardano la calligrafia insomma carino quindi gli strumenti che servono e non so flow magazine cercato online se non lo conoscete e poi sempre appunto da questo stand avevo addocchiato subito addocchiato queste scatole questa si chiama paper rock box ed è praticamente una scatola al cui interno sono contenute è contenuto un mini kit per appunto realizzare i papi di regalo e insomma potevo non innamorarmi di questa cosina adesso non vorrei far volare tutto giù comunque che cosa contiene allora contiene innanzitutto dei tag questa appunto è sul rosa c'erano varie colorazioni io ovviamente l'ho scelta sul rosa c'erano appunto ci sono questi tag e poi c'è un piccolo timbrino con la scritta grazie questa ragazza realizza proprio lei stessa queste timbrie quindi con la scritta grazie questi sono carini appunto da realizzare i pacchetti poi c'era dentro appunto questo rotolo di di filo di cotone insomma per fare pacchettini per chiudere il tutto poi ci sono delle carte che sono bellissime allora ce ne sono tre fantasie anche queste carte sono carte che sono tutte disegnate da questa ragazza e poi le ho appunto stampate e ad esempio c'è questa con tutti i triangolini oppure c'è questa che è deliziosa con la tour i feri i fiocchetti il Chanel numero 5 il macaron insomma la scritta love molto molto carino e poi questo invece con tutti i fiorellini oltre a questo dentro che cosa c'era due bostine anche queste appunto sempre che riprendono le fantasie di prima anche che carine per fare regalini e appunto così con i fiorellini e infine vabbè un po' di carta avelina rosa che non so in realtà se serve per abbellire il pacchetto o appunto per fare cioè se fa parte del kit insomma comunque ci torna comodo e infine questo blocchettino appunto con scritto notes quindi un blog notes sempre utile ecco quindi questo l'ho trovato veramente delizioso questo questo kit non costava neanche tanto costava 15 euro e insomma tra l'altro l'ho trovato un'idea carinissima per fare un regalo magari a un'amica che è appassionata anch'essa di tutto ciò che è appunto papercraft quindi queste erano un po' le cosine che ho preso mi sembra di non dimenticare più nulla no erano un po' le cosine che ho preso al mondo creativo insomma ogni anno riesco a trovare qualcosa di interessante quindi sono curiosa di vedere appunto nella prossima edizione in quella appunto invernale vedere se effettivamente riusciranno a realizzare il progetto di ampliare questa zona dedicata al craft relativo appunto a eventi stationary wedding e tutto questo insomma perché c'erano delle cose veramente molto molto carine niente questo è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao